Ben ritrovati e buona domenica dalla redazione di VCO Notizie in apertura di questa edizione del giornale, gli ultimi aggiornamenti sul fronte della cronaca. Aveva 17 anni e si chiamava Chiara Bottini, era di Verbagna, la vittima della tragedia avvenuta questa mattina nel canale Enel a Domodossola. La ragazza stava per atterrare in parapendio quando, per cause ancora al vaglio della polizia di Domodossola, è caduta finendo nel corso d'acqua. Il parapendio si è improvvisamente avvitato e il volo è terminato nel peggiore dei modi. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco di Domodossola che l'hanno recuperata, per lei non c'era più niente da fare, purtroppo è annegata. Chiara era partita dal lusentino, aveva frequentato i corsi ed era in possesso del brevetto da parapendista. Sarebbe dovuta atterrare nel prato, nei pressi del cippo dedicato a Geo Chavez, in cui di solito atterrano i parapendii. Tragedia nella tragedia, ad aspettarla all'atterraggio c'era il papà che ha assistito, impotente, alla tragedia. Chiara frequentava il liceo scientifico al Cavalieri di Verbagna. Tragedia oggi pomeriggio nelle acque antistanti piazza del popolo d'Arona. Un ragazzo ventenne, attorno alle 16, ha cercato il refrigerio della calura delle acque nel lago, tra l'altro in un punto dove la balneazione non è consentita e scomparso tra i flutti di un lago mosso dalle onde delle imbarcazioni, molto numerose per la giornata festiva. Il giovane residente a Fagnano Lona, nel Galaratese, sembrerebbe essere di origini magrebine o egiziane. Secondo le prime testimonianze, sarebbe entrato in acqua pur non sapendo notare. Sulla piazza e sugli scivoli a lago si è subito creato un affollamento di curiosi per le numerose persone presenti sulla piazza Salotto Aronese per la domenica ferragostana. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il sindaco Alberto Gusmeroli che ha eseguito il coordinamento delle operazioni per il recupero della salma. Il fondale del lago, in quel punto, subito dopo il molo del vecchio porto, si inabissa improvvisamente. Il giovane aveva raggiunto Arona questa mattina e nel pomeriggio aveva conosciuto due ragazzi con i quali ha fatto amicizia e si è recato sulla riva della piazza. Poi l'immersione per cercare il refrigerio, poche bracciate verso il largo ed è scomparso. Immediato è stato l'allarme, ma nessuno dei presenti è riuscito a prestare soccorso e poterlo trarre in salvo prima che scomparisse. Ed ora dedichiamo, voltiamo pagina e dedichiamo la restante parte del nostro giornale agli eventi in corso in questi giorni, all'incontro con i personaggi delle nostre montagne, ma anche alla storia con i grandi musicisti che nel passato hanno frequentato il nostro territorio. Appuntamenti ed eventi, dicevamo, lo sapete ridotti o rivisti, in questa estate di pandemia è partita ieri la festa di San Vito a Omenia, ma senza il tradizionale spettacolo pirotecnico che era in programma il prossimo 30 di agosto. Annullato lo spettacolo piromusicale di San Vito che era in programma domenica 30 agosto. La notizia era già nell'area, oggi decisione del Comitato San Vito, del Comitato Ordine e Sicurezza e dell'amministrazione comunale di Omenia, alla luce delle nuove norme in vigore dal 16 agosto che hanno ristretto il perimetro di azione e anche di una situazione che sta emergendo a livello nazionale con rientri da alcuni paesi in cui il virus ha ripreso circolare con obbligo di tamponi. La festa comunque si farà e è stata autorizzata nella sua interezza, precise il Presidente del Comitato Festeggiamenti Massimo Nobili, che spiega. Tutti gli altri eventi non sono paragonabili ai fuochi, è possibile un controllo più agevole dei posti a sedere nelle zone dedicate, cosa invece molto complessa con lo spettacolo pirotecnico che, accanto alle aree controllate, avrebbe avuto una serie di luoghi dove le persone solitamente si ritrovano per assistere allo show in città ma anche sulle alture circostanti. Nobili parla di una decisione presa malincuore ma inevitabile per le nuove regole e per la salvaguardia della salute, già perché le serate piromusicali sono una tradizione radicatissima nella festa di San Vito. Il Presidente del Comitato rimarca che nel momento della stesura del programma questo non era prevedibile. Allora le condizioni c'erano per lo show, sottolinea, e conclude ringraziando l'azienda omenese GFG Piro di Fabio Graziani, che con il Comitato aveva preparato uno spettacolo peraltro legato al complesso momento storico che stiamo vivendo, con musiche che parlavano di vita e che ha compreso la situazione. La festa omenese, edizione numero 117, inizia domani. Ricordiamo la prenotazione per partecipare agli eventi sul sito www.prenotasanvito.it Ed ora parliamo dei personaggi delle nostre montagne. Incontro con Marco Zanelli, per oltre 30 anni gestore del rifugio Andolla in Alta Valle Antrona. A fine stagione lascerà. Gli abbiamo chiesto come affronterà questo nuovo futuro, ma anche un po' di ricordi in tanti anni in vetta tra cielo e terra. Con che spirito affronta la nuova vita che l'attende dopo quest'ultima stagione qui? Sicuramente è un grosso cambiamento, ma continuerò a fare questo lavoro con passione, in un rifugio a una quota più bassa. Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare tutti i volontari del CAI. Poi voglio ringraziare il soccorso alpino di Villa Dossola, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e tutti i miei familiari e tutti i collaboratori che ho avuto in questi anni. Il momento più emozionante di questi 32 anni in rifugio? Ce ne sono stati tanti e belli. Per esempio un soccorso riuscito sul pizzo Andolla di una persona in difficoltà e dopo una lunga attesa qua al rifugio è andato tutto bene. Hai mai avuto paura? No, ci sono stati momenti un po' difficili, come ad esempio una discesa una volta a Keggio dopo una lunga nevicata ai primi di ottobre. Che caratteristiche deve avere secondo lei il nuovo rifugista? Secondo me il nuovo gestore deve cercare di dare continuità a tutto quello che è stato fatto in questi anni e cercare di migliorarlo. Sono cambiati il pubblico, le loro aspettative e il loro modo di approcciare la montagna in questi decenni? Sì, il rifugio prima era un punto di partenza per ascensioni e vie alpinistiche. Adesso è diventato per la maggior parte delle persone un punto d'arrivo. Si notano persone meno preparate alla montagna. I primi ricordi all'Andolla? La mia figlia che giocava qua fuori con i bambini, che era piccolina, c'era il pastore con le mucche, le settimane dell'alpinismo giovanile, le settimane organizzate dal CAI, la prima volta che si vedevano i stambecchi, poi la festa di chiusura e la corsa anche a Keggio Andolla, cose belle. In questi anni hai incontrato qualche personaggio o una persona che l'ha colpita? Sono passate tante persone che per un verso o l'altro che mi hanno colpito. Cito su tutti l'alpinista Loretta, uno svizzero, che ha fatto tutti i 14.000, è stato il terzo dopo Mesner e Kukuzza. Quello che mi ha colpito tanto è stata la sua modestia. Com'è vivere all'Andolla durante tutta l'estate? Ti deve piacere perché ci sono momenti belli, quando il tempo è brutto, è un lavoro che lo fai per passione. E dopo le alte quote apriamo ora un'ampia pagina dedicata alla musica. Tornando agli eventi in corso c'è lo Stresa Festival con i concerti dedicati a Beethoven, al Palazzo dei Congressi, tra le proposte con sette differenti pianisti, l'integrale delle sonate per pianoforte del genio di Bonn. È stato il pianista tedesco Alexander Lönchisch ieri sera al Palazzo dei Congressi ad accompagnare il pubblico dello Stresa Festival a lungo il cammino che porterà nel corso della Kermess all'esecuzione integrale delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven, con il coinvolgimento di sette pianisti noti e di talento. Lönchisch ha eseguito la sonata in La Bemolle Maggiore, Marcia dalla Grande Teatralità, e poi la sonata in Mi Minore e la Amerklavia, due opere profondamente differenti, la prima trasparente e malinconica, la seconda dal virtuosismo altissimo, anzi il movimento conclusivo è un autentico spauracchio per gli interpreti perché sfrutta fino in fondo tutte le possibilità del pianoforte. Lönchisch nel 1977 ha vinto il primo premio al concorso Casa Grande dedicato a Schubert e da allora ha tenuto concerti in Giappone, Stati Uniti e nei principali centri musicali europei. Un importante ruolo svolge inoltre la sua attività nell'ambito della musica da camera. Come direttore solista collabora stabilmente con l'orchestra da camera di Mantova e tra le altre con l'orchestra della Radio di Francoforte, la Royal Filarmonica Orchestra e la Filarmonica della Scala di Milano. Uno sguardo ai prossimi appuntamenti con Stresa Festival. Martedì 25 agosto alle 20 concerto Un violino per Beethoven con il violinista Reno Capusson e la camera orchestra Basel diretta da Heinz Hollinger. Opere del genio di Bonn e di Schubert nel programma. Sempre Beethoven e Schubert, protagonisti anche mercoledì con il trio Wanderer con violino, violoncello e pianoforte e giovedì in Lida a Vienna con il tenore a Jan Bostridge e Saskia Giorgini al pianoforte. L'esecuzione integrale delle sonate per pianoforte Beethoveniane riprende venerdì con Gabriele Carcano alle 20 come tutti gli altri concerti elencati. Per altre informazioni e per la prenotazione dei biglietti vi rimandiamo al sito www.stresafestival.eu Estresa e il Lago Maggiore sono luoghi da sempre scelti da artisti e musicisti. vi proponiamo un approfondimento con il professor Raffaele Fattalini per scoprire proprio i tanti grandi musicisti che nella storia hanno frequentato il Verbano. Il Lago Maggiore con le sue atmosfere cangianti e sospese è da sempre fonte di ispirazione per poeti e pittori. Anche alcuni grandi musicisti ricordarono nelle lettere e nei diari di viaggio se non addirittura nelle loro composizioni il tranquillo mormorio delle acque e le ondivaghe atmosfere del Verbano. In età romantica ad affacciarsi sul nostro lago furono alcuni tra i più grandi musicisti del tempo Felix Mendelssohn, Franz Liszt e il suo giovane amico Richard Wagner ai quali fecero seguito nel Novecento gli italiani Ruggero Leoncavallo e Umberto Giordano e i maestri Arturo Toscanini e Gianandrea Gavazzini che ospitarono Giacomo Puccini e il violista Ugo Ara un musicista delicato e colto come vedremo. Tutti soggiornarono più o meno a lungo sul Lago Maggiore affascinati dalla sua solare bellezza già perfettamente italica e dalla lussoreggiante vegetazione indigena ed esotica sullo sfondo di colli verdeggianti di boschi e delle alpi candide di nevi. Franz Liszt aveva una grande predilezione per i laghi per le loro atmosfere sospese propizie al sogno all'immaginazione quasi all'estasi Essi, scrisse sono in armonia con l'atmosfera di sogno che mi è abituale i pensieri segreti della mia anima si aprono dolcemente nel mormorio discreto delle loro onde e spesso mi sento rasserenato e il titano del pianoforte era giunto sul Lago Maggiore in compagnia della giovane contessa Marie Dagoul pochi giorni dopo il ferragosto del 1837 provenivano dalla Svizzera dove avevano vissuto la loro storia d'amore tra le alpi e i laghi Le rive del lago ci trattennero a lungo ricordò Marie nei suoi memoir Franz compose per me una malinconica armonia che imita il sospiro delle onde e la cadenza dei remi è il celebre Latte Wallestad di cui ora ascoltiamo un brano i due innamorati e si alloggiarono a Baveno in una charman piccola locanda tutta ornata di fiori proprio di fronte al porto e in barca raggiunsero l'isola madre uno scoglio arido scrisse sul quale oggi cresce la più lussureggiante vegetazione e qui passeggiano avvolti nel profumo di gelsomini, magnoglie e lilla pochi anni prima era stata la volta di Felix Mendelssohn-Bartoldi che vi giunse alla fine di luglio del 1831 il 22enne compositore era al termine del suo lungo viaggio in Italia compiuto anche per consiglio di Goethe di cui nonostante la differenza di età era diventato amico nel nostro paese Felix Mendelssohn aveva iniziato a comporre la sinfonia italiana la cui musica diceva non l'ho trovata nelle opere d'arte ma nelle rovine nei paesaggi nella gaiezza della natura dall'isola bella scrive ai genitori a solo leggere la data della mia lettera ne sono sicuro voi sentirete un profumo di aranci vedrete un cielo azzurro un bel sole un lago liscio come uno specchio non è affatto così fa un tempo orribile piove rabbiusamente e di tanto in tanto il tuono riecheggia in lontananza il lago è grigio e non sento il più debole profumo di aranci per fortuna il tempo cambia e cambia anche l'umore del compositore torno in questo momento dall'isola madre che ho trovato veramente magnifica è larga piena di terrazze di filari di limoni e di boschetti sempreverdi il tempo finalmente si è un po' rimesso e la grande casa bianca che si trova sull'isola e le terrazze che la precedono producevano un effetto affascinante questo è davvero un paese unico conclude e vorrei tanto portarvi a Berlino una boccata dell'aria che respiravo nella barca anche Richard Wagner venne più volte sul lago maggiore seguendo le orve del suocero Liszt e annotò le impressioni soprattutto nella sua vita nella bella stagione del 1852 poco dopo il suo 39esimo compleanno terminata la valcheria e dedicato il lohengrin all'ist soddisfatto dei miei lavori scrisse nel suo diario decise di compiere una grande escursione sulle alpi sempre rigorosamente a piedi che l'avrebbe portato a sconfinare in Italia attraverso il passo del Gries fino al lago maggiore arrivò a Baveno che il sole era ormai tramontato tuttavia c'era ancora luce bastante perché gli apparissero le tanto agognate isole borromee virgolette che emergono lietamente dal lago maggiore in albergo l'hotel della post che oggi è sede di una banca a Baveno l'impazienza di quello che avrei goduto l'indomani scrisse non mi lasciò nemmeno dormire e il giorno dopo in una mattinata splendida in cui pote vedere anche il Monte Rosa rispecchiarsi nel lago finalmente potei contemplare a suo agio lo spettacoloso Verbano la visita delle isole mi incantò talmente che non potevo nemmeno rendermi conto come fosse arrivato a tanta delizia e che cosa adesso ne dovessi fare dall'inizio del novecento il lago maggiore sembra diventare la villeggiatura e addirittura il soggiorno prediletto dei musicisti alcuni dei quali di fama mondiale Ruggero Leoncavallo arrivò a Brissago in bicicletta nonostante la sua mole di Gran Gourmet da Cannobbio dove aveva preso alloggio dopo un soggiorno a Pallanza fissò la sua dimora nella cittadina svizzera famosa per i suoi segri facendosi costruire la villa Miriam che pagò a rate componendo con la sua straordinaria facilità alcune arie tra cui la fortunatissima mattinata fu nella primavera del 1904 che per la prima volta al mondo sulle onde del lago maggiore si levò come in volo la celebre melodia dell'aurora di bianco vestita ad ascoltarla per primi furono alcuni fortunati pescatori che passavano in barca sotto la villa del maestro il canto usciva da una finestra spalancata sulla luce del lago la voce impressionante per limpidezza e potenza era quella di un giovane tenore emergente il trentenne Enrico Caruso che era venuto apposta a Brissago per provare la nuova aria del maestro Nello stesso anno 1904 approvò a Baveno Umberto Giordano anche egli prima aveva soggiornato a Pallanza a Villa Montebello divenuta poi Dependance dell'Hotel Majestic il trentasettenne compositore aveva già scritto l'Andrea Chenier e la Fedora opere che gli avevano dato fama e ricchezza a Baveno con i soldi della moglie Olga Spatz figlia di facoltosi albergatori di origine svizzera e proprietari dell'usso Grand Hotel de Milan a Milano acquistò la Villa Fedora con il suo bel parco oggi in giardino pubblico per vent'anni dal 1904 al 1924 il compositore visse e lavorò nella pace di questa favolosa villa davanti agli incanti delle isole Borromee come ha scritto il critico musicale Giulio Gonfalonieri fu un periodo felice aglietato dalle visite di Giacomo Puccini Guglielmo Marconi e dello sultore Medardo Rosso una lapide dettata dal maestro Gianandrea Gavazzeni e affissa sotto il portico del municipio nella raccolta piazzetta di fronte al porto ricorda il musicista che qui trascorse virgolette nel tempo della quiete e del silenzio lacustre virgolette periodi fecondi ispirato dalla bellezza naturale del lago mattinate scintillanti nel sole che saliva dai monti della Svizzera beriggi colmi di luce e gravati dal silenzio di una pace solenne rinfrescati dalla fibbrezza leggera tramonti un po' drammatici quando il sole si metteva a rosseggiare dalle parti del motarone e poi si incupiva rapidamente per far posto all'uccichio delle primissime stelle scriveva il confronieri quando componeva il maestro esigeva il perfetto silenzio affinché virgolette le melodie scrisse come da un paese lontano dove stessero chiuse in esilio levassero le loro voci e corressero verso le mie abbraccia anche il maestro Gianandrea Gavazzeni fu un fedele ospite di Baveno di cui fu nominato cittadino onorario per oltre 50 anni infatti trascorse le villeggiature estive nella villa Polli di proprietà della moglie Gavazzeni verbanista cultore del lago onoris causa si incontrava spesso con il mitico Arturo Toscanini il grande direttore amava la quiete del lago e si rifugiava nell'isolino di Pallanza proprietà dei Borromeo dai quali prendeva in affitto la villa e qui si riposava studiava e riceveva pochi e scelti amici per i quali allestiva qualche esecuzione esclusiva divertendosi a sistemare personalmente le sedie in sala per la migliore acustica possibile spesso raggiungeva Lugano per registrare alla radio della Svizzera italiana nel museo del paesaggio di Pallanza è conservato un busto di gesso del Toscanini opera del Trubescoi anni fa tre temerari verbanisti lo portarono in taxi a Milano per fonderlo in bronzo oggi si trova nel parco di Villa Giulia ex Cursal da dove il direttore guarda verso il suo isolino di San Giovanni nel minuscolo cimitero dell'isola dei pescatori dove anche lo scrittore Piero Chiara avrebbe desiderato riposare per sempre si trova la tomba di Ugo Ara grande violista stimato dal Toscanini uomo semplice e generoso l'Ara sconvolto dalla guerra ritrovò un po' di serenità in quest'isola tranquilla dove visse appartato sempre in abito dimesso e con le scarpe di corda ben voluto da tutti alla sua morte lasciò tutti i suoi beni in favore dei bambini dell'isola e nella sua bianca casetta fu istituita alla scuola Ugo Ara ha lasciato anche un prezioso piccolo libro il romanzo delle isole borromee ricco di ricordi dei grandi spiriti a cominciare da Goethe e dalla sua Mignon che animarono questi luoghi e con i quali egli colloquiò come in sogno durante i suoi ultimi solitari anni e si chiude qui questa edizione della domenica del nostro giornale per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito internet vcoazzurativu.it e alle nostre pagine social grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i nostri programmi